Ciao a tutti, io sono Irene e oggi vi farò vedere come si può fare lo slime in casa. Allora, ci serviranno della colla vinilica, della schiuma da barba, del colorante e dell'acido borico. Di solito si trova in queste bustine, anche ne abbiamo diluito. Per circa 4 grammi di acido borico ci vogliono circa 150 millilitri di acqua tiepida. Come prima cosa bisogna aggiungere della colla in un recipiente dove vogliamo fare il nostro slime. La colla equivale al quantitativo più o meno di slime che uscirà. Poi si aggiunge la schiuma da barba e si inizia a mescolare. Quando il nostro composto è ben amalgamato si aggiunge il colorante. In questo caso l'ho scelto blu, ma può essere di qualsiasi altro colore. Si inizia a mescolare. Quando tutto il composto è ben assorbito il colore, si inizia ad aggiungere pian piano l'acido borico. Bisogna aggiungerne poco alla volta. Quando il nostro composto inizierà a staccarsi dalle pareti, vorrei dire che il nostro slime è pronto. Quindi, questo è il nostro risultato. Spero che il video vi sia piaciuto. Ciao a tutti e buon divertimento!